Gli altri colleghi, Katia Polidori e poi Sestino Giacomo. Velocissimi i miei colleghi e li ringraziano già. Mi aggancio ad una cosa, nel DOP fatta dall'italianità, cioè da molte persone che sono riuscite, poi sono diventate anche medie e poi anche alcune grandi imprese, in questa maniera facendo dei piccoli prestiti a chi aveva piccole aziende. Il rapporto che oggi è diventato in parte malsano, la sfiducia alle piccole imprese. Quando si parla di un aiuto economico difficilmente va a chiedere i soldi, non perché non ne ha bisogno, ma perché sa investire. Chi invece ne ha bisogno non riesce ad ottenere credito, chiedere credito di un imprenditore, lo mette dentro un frullatore, ciò che ne esce è una letta storica che ha avuto l'azienda. Questo cosa comporta? Non riescono ad avere una conoscenza del territorio, pur se è rimasta piccola quella discrezionalità, fare in modo che il sistema si autolivelli. In un momento così, nemmeno forse è stato bisogno di un intervento. La fretta e la spenda si lamentano di questo. Io ricordo nella scorsa legislatura un caso di svendita dell'ILVA, dove non si riesce a capire cosa funziona. Quindi il nostro farlo oggi, prima che questi signori, mi pare domani, prendano... Grazie, Sestino Giacomoni. ...la brillante idea di minare la credibilità del sistema italiano. Come diceva Renato Brunetta, uno lo sapeva prima e qualcuno ci ha speculato. C'è un'interrogazione del Vice Presidente del Parlamento di Fatto, ha recepito senza dire nulla una direttiva europea.